Bentornati cari amici dall'eccesso in questo nuovissimo videace, come state? Spero bene, chiedo venia per l'assenza, ma ho avuto un po' di impegni, un po' di problematiche sono anche un po' dismesso, così con questa barba un po' incolta Parliamo ovviamente di Cagliari, tra l'altro sabato riuscirò a vedere finalmente quella cazzo di partita contro la Salernitana, quindi su quello ci sarà subito un video post partita più magari analisi il giorno dopo Per quanto riguarda invece la partita con l'Empoli, ho visto il primo tempo o in parte diciamo perché poi ero in macchina e il secondo l'ho solamente sentito via mezzi alternativi di comunicazione Comunque, analisi velocissima Cosa ne penso? Come... Partiamo col dire vittoria importantissima Vittoria per certi aspetti fondamentale Per certi aspetti fondamentale perché in trasferta non avevamo mai vinto perché l'Empoli se no rischiava chiedo scusa se sentite decollare un aereo dietro ma questo computer io lo voglio rottamare Purtroppo questa donate e arriverà un computer decente Questa è la situazione Anche questa sedia che cicola, la vorrei rottamare Ok? Quindi dicevo, l'Empoli era lanciato abbastanza quindi abbiamo interrotto anche un loro buon momento il che è ottimo perché va a togliere delle certezze importanti e soprattutto interessante la situazione di classifica che si è andata a creare ovvero che comunque dal tredicesimo al diciottesimo posto ci sono due punti Ok? Quindi la cosa assurda di questa stagione è che se il Cagliari dovesse fare ultime 11 partite fatte in modo decente cioè è capace che il Cagliari può arrivare tranquillamente al tredicesimo Concludendo qui in una stagione ottima uno direbbe la stagione sino ad oggi è completamente insufficiente perché poi insomma anche qui dopo la vittoria con l'Empoli che è importantissima, lo ripeto che è di vitale importanza per lanciarsi contro la Salernitana e quant'altro io non vorrei che si avesse l'effetto opposto cioè non di spronamento e di aumento di fiducia e di poter credere nelle proprie capacità non quell'effetto bensì un effetto invece di autoesaltazione eccessiva cioè ripeto sì abbiamo fatto una vittoria importantissima fondamentale di incredibile importanza contro l'Empoli aprite la classifica al Cagliari terzo ultimo cioè non è che stiamo parlando di un Cagliari che ha raggiunto la salvezza matematica non mi sembra proprio quindi se oggi qualcuno scambia questo sentimento di contentezza per un siamo salvi cioè è proprio questo che mi preoccupa cioè non è stato fatto ancora niente è un campionato enormemente insufficiente dove si è costruito a livello di gruppo veramente poco dove a gennaio sono arrivati due elementi che per quanto mi riguarda a livello di presupposti analizzati Mina non era un buon elemento si sta dimostrando per antisportività proprio quello che chiedevo io invece un elemento fondamentale e ben venga ben venga anche se rimango io personalmente dell'idea che una difesa Dossena-Mina sia eccessivamente statica quindi personalmente secondo me prenderemo più di qualche gol non so quando speriamo non contro la Serenitana speriamo di prenderne magari in altre partite meno importanti perché la Serenitana se perde col Cagliari la prossima è in Serie B virtualmente quindi bisogna dare l'ammazzata e ricordarsi le bandiere bruciate gli atti di inciviltà di profonda e terribile ignoranza che c'è purtroppo stata e c'è anche quest'anno in più partite col Bologna con altre squadre si è visto che è uno stadio pieno purtroppo di purtroppo anche di tanti di tanti ignoranti visto il comportamento sugli spalti non è che stiamo parlando del nulla insultando a gratis cioè insultando poi cioè semplicemente si dipinge la realtà di quello stadio quindi prepariamoci al tutto e di più prepariamoci se non sbaglio appunto è a Salerno che giochiamo non vorrei dir minchiate ma mi sembra Salerno prepariamoci a ignoranza a festival dell'orrore a robe sceneggiate c'è liberani quindi una partita molto particolare che non bisogna sottovalutare assolutamente Mina quindi per l'antisportività bene i dubbi rimangono cioè però quantomeno fisicamente sta tenendo speriamo non speriamo non crolli fisicamente perché è un giocatore che vedendo lo storico degli ultimi 3-4 anni non è un giocatore che ti tenga più di 10 partite di fila quindi ben venga riuscisse a farne ancora 5-6 e poi si infortunasse vabbè il suo comunque l'avrebbe fatto e come antisportività sta dando tanto ed è quello che ci serve cioè ci serve gente antisportiva gente rognosa gente scorretta serve questo per salvarsi una squadra così scarsa quest'anno passando invece all'altro acquisto Gaetano su Gaetano non lo conoscevo onestamente pensavo non potesse ambientarsi subito perché essendo giovani insomma veniva da una stagione un po' così col Napoli un po' in sordina pensavo non si potesse ambientare subito mi ricredo assolutamente su questa cosa faccio un gran mia colpa il discorso comunque rimane lo stesso cioè Gaetano è un giocatore che si sta dimostrando per giocate per velocità di pensiero fenomenale fenomenale perché pensate voi in un ipotetico 4-3-2-1 o robe di questo tipo con magari un Ristagno Gaetano Luvumbo Gaetano Luvumbo Ristagno insomma tre quarti di questo tipo inizia a diventare interessante o un 4-2-3-1 con Ristagno insomma ci sono tanti moduli con questi tre che secondo me sono i veri gioielli del Cagliari in questo momento che possono essere inseriti ok e Gaetano è un giocatore è un giocatore veramente importante veramente importante mi chiedo ma non si poteva fare un prestito con un riscatto un contro riscatto almeno cioè qua si sta valorizzando a gratis un giocatore per un'altra squadra ma queste cose non piacciono onestamente poi sia chiaro ci dovesse qualora ci dovesse salvare tanto di cappello e cappella quindi voglio dire quella è la priorità ci mancherebbe però è ovvio che uno guarda un po' più in là cioè ok ti salvi poi adesso il gioco gira perché c'è lui e se ne va e poi torna torna da capo non si fa mai nulla di concreto ok quindi questo per quanto riguarda i due acquisti insomma ci volevo ci tenevo a precisare un po' non pensavo sinceramente che nessuno di due potesse far così bene quindi ripeto assolutamente qua per ammettere di aver sbagliato il tiro sul loro imminente contributo sui ragionamenti fatti rimangono gli stessi poi per quanto mi riguarda e penso siano pienamente pienamente condivisibili vorrei vorrei dire un'altra cosa perché si è parlato Zappa grandissimo per l'assist per Nandez e poi il gol di Yank e tutto quanto bravissimo bravissimo Zappa e e qua siamo zappisti lo sapete non daremo mai un'insufficienza a Zappa anche di fronte a prestazioni ignobili Zappa avrà sempre 10 su questo canale ultimo baluardo rosso-bru se ci salviamo ci salviamo grazie a quella sgaloppata di Zappa ok chiedete scusa e vergognate quindi Zappa è l'uomo della provvidenza Zappa è quello che non ti aspetti che magari ti fa perdere 10 punti con amnesie difensive ma poi ti fa guadagnare quei 3 punti in extremis che ti salvano eh casa Zappa grande giocatore grande ragazzo a cui voglio un gran gran bene ehm Zappa poi Nadez figurati se li segnava bene Janktok ha segnato volevo parlare però di un altro giocatore visto che insomma si sono osannati magari un po' i giocatori che hanno di campo veri e propri che hanno insomma influito su certe azioni io voglio parlare ancora una volta del portiere cioè Scufet ragazzi io non so chi ma anche nel caso del gol annullato per l'Empoli quella parata che fa sul colpo di testa dichiara di Valuchievic quel cornutazzo che tra l'altro appunto popola tra lui e Marin Marin che facessero qualche scherzo cioè il il signor il signor Scufet signori qua se ne parla pochissimo io di nuovo lo voglio ribadire sperando che a Cagliari sia chiaro che abbiamo un portiere su cui bisogna puntare da qui ai prossimi cinque anni cioè questo non è Cragno cioè questo è un portiere veramente veramente completo su cui ha senso puntare veramente crederci io ad oggi se qualcuno mi chiede ma chi è per te la certezza del Cagliari io di certezza in questa squadra onestamente non ne vedo l'unica certezza che sto vedendo è il portiere vedo un portiere che veramente ha fame ha fame perché si sente tolto qualcosa che gli apparteneva perché poi la nazionale la serie A io vi dico anche posso spararla posso spararla ma per quanto mi riguarda per la stagione che sta facendo scuffetti io in ottica europea lo valuterei ma scusatemi cioè mi sembra una sparata mi sembra una sparata ma Donnarumma Vicario il terzo chi è scusate io sparo scuffet io sparo scuffet poi adesso mi tirerete fuori ah no perché c'è quello delle giovanili del cazzo che è esordito ha noturati dai ma per favore ma per favore il problema che scuffet è un portiere che gode di una retorica di essere sottovalutato di continuo è un portiere straordinario 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 faccio un'altra sparata ne faccio oggi sono in bene di sparate hashtag sparate nei commenti oggi altra sparata ne posso sparare un'altra ne posso sparare per me era dei tempi di Olsen che non vedevo un portiere un portiere così forte ma per me con Cragno non c'è paragone è un portiere adesso adesso la prossima cappellazza con Tosernita e caserebbe ma è un portiere veramente che mi piace tra i pali reattivo in uscita reattivo e poi mi piace perché è proprio quel portiere che due anni in cui venia smerdato di continuo in Italia cosa fa? va a Cipre e va in Romania a prendersi le peggio palate di cacca pur di giocare pur di giocare cioè questo è un ragazzo proprio una persona una persona con gli attributi in grado di mettersi in gioco cioè qua non siamo di fronte al viziatello che ha fatto magari tutto il percorso del giovanili ah nell'Inter poi è passato al Milan poi la Roma poi la Juve poi magari mi faccio il percorso in Serie B poi ritorno in A perché poi così divento titolare di qua di là cioè questo è un giocatore ragazzi che da che doveva andare in nazionale è stato fucilato dalla stampa e quant'altro perché non è andato all'Atletico Madrid è andato in Serie B non riuscì neanche a giocare in Serie B è dovuto andare che a ogni mezzo errore che faceva le papere di scufette cioè Donnarumma a questo punto è incarcerato dalle papere che fa che fa una cappella dietro l'altra scufette su dieci miracoli fa un mezzo errore ah la papera di scufette ma quale papera di scufette ah la papera di scufette ma scufette è un portiere clamoroso 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 e mi ricordo dopo due o tre partite che c'era chi li voleva Boris ah perché scufette non sta facendo miracoli cioè con uno che non ne parava mezza si preferiva togliere scufette ah perché non sta facendo miracoli cioè adesso se uno non fa miracoli è uno schifo però se paranormamente non va bene meglio l'altro che fa cappelle cioè ragazzi con tutto il bene a Boris che ripeto io voglio un bene dell'anima anche a lui perché l'anno scorso è stato fondamentale ha fatto una grande stagione ma mi pare evidente che tra i due non ci sia non ci sia minimamente paragone o sbaglio ok bene questo è quanto non so se ci risenteremo prima della serenitana vedremo penso di no comunque un bacione ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti